Ben ritrovati dalle tribune elettorali del Veneto, parliamo delle elezioni comunali che ci saranno a giugno, grandi comuni alla voto, Padova un grande centro alla voto per queste amministrative con eventuale doppio turno l'11 giugno e poi il ballottaggio il 25 giugno, Luigi Sposato è il candidato con la sua lista civica che si chiama Osa ed è sostenuto anche dal popolo della famiglia, Luigi Sposato invece si candida con la sua lista civica Osa, anche lei ha iniziato presto la campagna elettorale, è sostenuto anche dal popolo della famiglia, come hai deciso di candidarsi a sindaco? Intanto sono Luigi Sposato, sono un candidato indipendente dai partiti politici per scelta e sono un insegnante in aspettativa e poi ho sviluppato un'attività che dà lavoro a 10.000 persone e sono di fatto un imprenditore che si occupa di lavoro. Ho deciso di candidarmi perché ritengo che la città abbia bisogno di una visione ampia, una visione prospettica di uno sviluppo di quelli che sono i propri talenti e le proprie abilità. Credo di aver maturato delle esperienze che mi consolidano, mi rendono consapevole del fatto di poter essere utile a questa straordinaria città che è Padova. Lei sta già pensando, avete già pensato anche un ipotetico alleanza in vista al ballottaggio e poi di sostenere qualcuno? Cioè di essere sostenuti da qualcuno sì, la domanda. No, io punto per andare al ballottaggio l'11 di giugno e questo è il mio unico obiettivo in questo momento, tutto il resto si vedrà dopo. Una campagna elettorale che è molto accesa, quella di Padova. Vediamo i principali temi secondo i candidati che sono qui oggi in studio. Luigi Sposato, famiglia con la sua lista, qual è il tema centrale della sua campagna elettorale? Bitonci e Posto, il problema della sicurezza? Guardi, il discorso di sicurezza è sicuramente importante, è molto sentito dai cittadini padovani. Io ritengo però che la madre di tutte le battaglie sia il lavoro. E senza il lavoro manca la dignità delle persone. Ne abbiamo tanti italiani che non arrivano a fine mese, che vanno alla Carita, si si vergognano di andare a prendere il sacchetto di alimenti per portare a casa. Senza dignità non c'è futuro. Quindi la mia campagna elettorale e la mia attenzione, il mio impegno verso la città sarà principalmente legata all'attività, per come sviluppare attività lavorativa. Il sindaco, a mio avviso, può creare le condizioni per sviluppare il lavoro e può creare le condizioni affinché la città sia appetibile per investimenti imprenditoriali. Si può fare, si deve fare. Ribadisco, senza lavoro manca la dignità delle persone e senza dignità manca il futuro della città. Luigi Sposato, lei che dice sulla questione ospedale di Padova. Guardi, io sento da vent'anni, ovest, est, nuovo sul vecchio, psichiatrico, aeroporto. Io propongo, proporrò una consultazione popolare. Farò in modo che siano i cittadini a indicare la location più, a loro avviso, più ideale. Fermo restando però cinque condizioni. La sicurezza della copertura finanziaria. Non possiamo partire con un'opera e non sapere se poi c'è la copertura. È come se un architetto partisse e non sapesse quanti piani fare nel proprio palazzo. Bisogna sapere esattamente la copertura. Il discorso di un impatto ambientale adeguato, valutazione. Bisogna partire prima dalla viabilità e poi dalla costruzione degli edifici. Un campus universitario per i studenti di medicina. La possibilità che all'interno di certi importi possano lavorare le imprese locali, anche se il bando è internazionale. E l'ultima, ma non per ultima, la certezza o comunque l'impegno affinché si riducono i tempi di attesa, per esempio del pronto soccorso, per esempio delle lunghe di attesa per le visite specialistiche. Se ci sono queste cinque condizioni, est, ovest, per me è indifferente e preve ovviamente con una consultazione dei padovani. Grandi opere, interventi da fare, sposato, la sua idea. Sì, noi dobbiamo guardare la città per i prossimi 15 anni. Io ho già proposto nelle mie 21 azioni, ormai da 3 o 4 mesi a questa parte, già delle opere importanti. Sono stati il primo a parlare della TAV, dell'alta velocità. Se non la prendiamo noi, la prenderà la città di Vicenza. La TAV porta, oltre a un servizio migliore per i cittadini, anche quattrini che possono essere utilizzati per risanare la parte della stazione, la parte di Borgomagno, Piazzetta dei Gasperi e la Piazzale Boschetti. Noi abbiamo bisogno di portare a casa questi quattrini. Io sono stato il primo a accennare a questo tipo di soluzione. Altra cosa, abbiamo dei capannoni industriali che sono ormai obsoleti. Dobbiamo lavorare sulla flat tax, ho proposto anche questo. La possibilità di fare in modo che le imprese straniere possano investire sulle nostre zone e rilanciarle. Sul discorso fiera, io ho un'idea precisa. Abbiamo bisogno di altri, a mio avviso, tre padiglioni per renderla internazionale. E dobbiamo renderla più tecnologica. Mi chiedo perché non può essere fatto all'interno anche l'auditorium o il centro congressi. Ecco, quindi abbiamo bisogno un attimino di portare a casa dei quattrini e possiamo farlo solo, ovviamente, in sinergia con le istituzioni a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo. Luigi, sposato, abbiamo affrontato il tema delle prospettive culturali e di spettacolo di Padova. Sì, io ritengo che bisogna partire dalle bellezze che ci sono. Ci sono delle bellezze non conosciute, Padova è conosciuta per il Santo e per le Scrovegni, invece ci sono tantissime altre bellezze, monumenti non conosciuti. Dobbiamo creare degli itinerari in sintonia, in sinergia con le guide turistiche, tour operator, albergatori, associazioni di categoria, affinché ci sia però un turismo, quindi una valorizzazione di quelle che sono le nostre bellezze, che non sia però occasionale, mordifugi. Dobbiamo creare un turismo stanziale, oggi è vero che sono aumentati i turisti a Padova, ma sono quelli che vengono con la bottiglietta d'acqua, che girano per la città, non prendono un caffè e quando buttano la bottiglietta d'acqua dobbiamo anche riciclare il costo della bottiglietta. Dobbiamo creare quindi una sinergia, dobbiamo creare grandi eventi, dobbiamo fare in modo che il turismo sia per tutte le stagioni, perché adesso il turismo è solo nelle stagioni primaverili e estive. Ecco, abbiamo bisogno di valorizzare, una delle mie 21 azioni riguarda l'adozione di un monumento, dare la possibilità ai privati di valorizzare un monumento e proporlo e promuoverlo nel mondo. Rosato, lei ha qualche aspetto da dire su questo? Sì, sullo sport, allora io e il plebiscito non sono d'accordo di fare lo stadio a calcio, a meno che non si rivede veramente in profondità la viabilità da Ponte Vigo d'Arzere e quant'altro. Invece sono molto attento, esserò molto attento, finanzierò, realizzerò un fondo di 4 milioni di euro per gli sport cosiddetti oltre il calcio, quindi non minori oltre il calcio, che sono tantissimi a padua e hanno bisogno di essere sostenuti. Come lo farò? Creerò una società per la gestione dei buoni pasto del comune, il comune dà 1800 buoni pasto al giorno per 365, una media di 6 euro. Se il comune fa una società di questo tipo per la gestione, potrà tenere in cassa fino a un 30%, che è uguale a 4 milioni. 4 milioni che verranno messi a disposizione di tutte le associazioni e società sportive. Questa è la sua proposta che farà? Già nelle mie 21 azioni è già previsto questo tipo di intervento. Sposato, lei su questo che dice? Noi abbiamo la quarta città più inquinata d'Italia, quindi abbiamo necessità di lavorare sulla mobilità barra viabilità compatibile a quella che è una situazione ambientale che sia vivibile. Quindi questo è per forza di cose, quindi bisogna orientarsi su strutture elettriche, sui sistemi elettrici, mezzi elettrici. Io anche proponevo i taxi elettrici o i taxi ibridi, quindi fare in modo che ci siano comunque un'attenzione all'ambiente, quindi meno gas di scarico attraverso questi supporti elettrici, quindi biciclette elettriche. Ho previsto 80 colonnine nelle periferie della città per la ricarica anche delle motociclette elettriche. Quindi dobbiamo puntare su questo tipo di sistema. Ecco, io quando mi si chiede la cosa più difficile da affrontare e risolvere, io credo che sia a Padova la mobilità e la viabilità, perché deve essere, ribadisco, compatibile con quello che è un ambiente che purtroppo di cose ci porta a essere la quarta città più inquinata d'Italia. Sposato, la Padova del futuro, lei come la vede? La vedo su due ambiti, una Padova, una smart city, bisogna fare in modo che ci sia un cambio di mentalità, un cambio di strutture, un cambio di una sinergia tra tutti gli attori che gravitano su questa straordinaria città, ma la cosa principale che io ritengo e io mi adopererò in questo senso è mettere al centro la persona. Ribadisco, la persona spesso viene dimenticata, viene dimenticata per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda il discorso della dignità, per quanto riguarda la possibilità di poter vivere una vita serena, una vita tranquilla, ma soprattutto avere una visione di quello che è il proprio futuro. Abbiamo bisogno che i nostri giovani restino a Padova, è una cosa assolutamente assurda che vadano via per necessità lontana dalle famiglie, lontana da questa terra straordinaria. Quindi io vedo la città e sono sicuro che al di là di chi vince sarà in questa direzione l'attenzione dell'amministrazione, un'attenzione mettendo al centro i bisogni del cittadino Padovano. Ringrazio tutti quanti che ci hanno seguito, per Padova, per i candidati sindaco chiudiamo oggi queste tribune elettorali, la prossima settimana avremo gli appuntamenti con i candidati sindaco degli altri due comuni capoluogo del Veneto al voto, cioè Belluno e Verona. Arrivederci da Curzio Petterò.